Bonjour mon ami, oggi parliamo di associazioni tra tarocchi ed altre materie. Ovvero il momento in cui tu sei così malato di tarocchi che indipendentemente da quello che stai facendo durante la giornata cerchi di fare queste associazioni tra la materia, quello che stai guardando, il programma televisivo, il libro e la simbologia degli arcani. Questo denota una certa malattia anche perché a volte fai questi accostamenti con materie che non c'entrano proprio nulla. Per esempio stai guardando un programma sulla cucina e guardi quella ricetta del paté de foie e cerchi di vedere dove si ritrova nel tarocco. Nonostante possa sembrare molto strano questo tipo di associazione io ti consiglio di farla, di esercitarti in questo modo per tre ragioni, anzi due più una. La prima, quando fai questi collegamenti tra ciò che vivi e si spera che ciò che vivi è anche ciò che ami fare e i tarocchi, stai studiando i tarocchi, ma li stai studiando in modo molto più funzionale rispetto a un libro, proprio perché noterai che la simbologia degli arcani ti scivola pian pianino dentro e tu nemmeno te ne accorgi. Due, in fase di lettura determinati concetti già saranno familiari. Perché? Perché se tu hai già creato delle associazioni leggendo un libro, facendo un corso, è normale che se durante una lettura che verte proprio su quella tematica dovesse riuscire gli stessi concetti, quando ti trovi quelle carte hai fatto, hai studiato i tarocchi. Sì, ma ancora una volta non l'hai fatto da libro. Quindi permetti alla simbologia del tarocco di diventarti familiare. Punto tre, ma questo è veramente per i malati di tarocchi, fai il ragionamento inverso, ovvero studi quella materia grazie alla simbologia del tarocco. Che cosa intendo? Per esempio immagina che stai studiando il lessico, la terminologia dei cristiani, perché magari stai studiando, che ne so, a biglino, i testi sacri, ok? E arrivi a un punto dove noti che Gesù viene chiamato il Leone di Giuda. Eccola là, ti parte subito l'associazione Leone di Giuda, cioè Gesù, Leone di Giuda, forza, e una volta che hai creato questa associazione non dimenticherai più Gesù, Leone di Giuda, proprio perché hai avuto questo collante con la forza. Ecco, io nella mia malattia mentale utilizzo anche i tarocchi per ricordarmi quello che sto studiando. Detto questo, visto che una delle materie che studio di più, oltre tutto quello che è spirituale, come ormai sapete, no? Beh, marketing, marketing digitale, mi piace molto. Ecco che voglio farti un esempio pratico di quello che sto dicendo con quattro principi basici del marketing e dove si ritrovano nei tarocchi. Cioè, dove io di riflesso posso vedere questi insegnamenti all'interno delle carte dei tarocchi. Non solo, quindi ti vado a enunciare il principio di marketing, non solo ti faccio vedere dove si ritrova nel tarocco, ma farò anche qualcosa di ancora più difficile. Cioè, te lo faccio vedere dove si ritrova in due carte contigue. Contigue intendo conseguenziali, cioè numericamente conseguenziali. Uno, due, cinque, sei. Allora, uno dei principi del marketing è il traguardo su carta. Cioè, significa che quando tu hai un'idea, no? Quello scoppio creativo, pim! Tipo, non ti buttare subito sul progetto. Cioè, prendi carta e penna. Io, per esempio, uso un lavagnone. E scrivi tutto. Scrivi la tua idea, scrivi il tuo progetto. E addirittura, se sei proprio convinto, inizia ad abbozzare pure la strada che farai per raggiungerlo. Ricordati che qualsiasi grande idea parte su carta. Come non vedere questo principio nell'accoppiata bagatto-papessa? Perché? Perché il bagatto ha questa bacchetta in mano, ma sotto un altro punto di vista potrebbe essere un ragazzo che sta per scrivere qualcosa, dove scrive sul libro, barra quaderno, che gli sta fornendo la papessa. Et voilà, principio del traguardo su carta. Due, principio della spinta perenne. Ti ricordi la solita menata della zona comfort? Ormai è così abusata che mi vergogno pure ogni volta che lo devo dire, però ci sta. Che cosa significa? Puoi avere la più grande idea del mondo, la idea più geniale del mondo, ma dopo un tot di tempo devi innovarti. Questo perché? Perché ti copiano, perché diventa vecchia, perché non è più funzionale ai tempi che magari andremo a vivere in futuro. L'innovazione già è di per sé difficile, diventa ancora più difficile quando un'idea che hai avuto è stata vincente in passato. Quindi automaticamente tu credi che sarà vincente per sempre e quella sarà la tua rovina. Perché non ti discosti mai da quella situazione là? E allora mi piace vedere questo concetto nell'accoppiata 19-20, quindi il sole, il giudizio. Perché? Perché nel sole un personaggino sta tirando l'altro, no? Quello di destra dice, dai vieni, ti aiuto io. L'altro sembra che gli dica, aspetta, fermati un attimo. È un po' arrestio a questo cambiamento. Ma se vedessimo la carta a destra, quindi dove lo sta tirando, ecco che abbiamo il giudizio. Un riuscita, ma anche un uscita fuori. Da dove? Da un letargo o da una zona comfort. E voilà. Terzo principio. Principio del ricalco carbone. E questo principio si basa su una convinzione che poi è verissima, in cui nulla è nuovo. Anche quando tu ti stai cervellando per trovare l'idea nuova, nulla è nuovo. E quello che tu devi fare è innovare o rivisitare delle idee vecchie, ma che hanno avuto successo. Ecco perché invece di perdere anni della tua vita, se non secoli, se non tutta la vita, a cercare l'idea che cambierà finalmente il tuo futuro, ti conviene iniziare a studiare quello che hanno già fatto altri e che è riuscito ad altri. Poi ovviamente lo devi mettere nelle tue corde, nelle tue frequenze, nel tuo prodotto. La coppia sarà? Rullo di tamburi. Diavolo. Maison Dieu. Casa Dio. Perché? Perché nel diavolo abbiamo proprio il concetto di copia. A volte viene visto in modo negativo, quindi plagio e cose del genere. E nella casa Dio invece abbiamo un'esplosione. Ancora una volta, per assonanza fonetica, quasi per cabala fonetica, questa alchimia fonetica, esplosione, uscita, riuscita. Ecco, la copia ti porta alla riuscita. Ovviamente alla riuscita del tuo prodotto. Punto 4. Principio della condivisione critica. E anche questo è veramente anche una delle cose nell'ambito spirituale forse più difficili da far capire. Tu puoi essere la persona più intelligente, più istruita degli altri, del mondo intero su quello che stai facendo, ma quando hai un'idea geniale e solo tu la trovi geniale, l'idea diventa meno geniale. Perché la genialità è data da un benessere che tu dai alla comunità. Altrimenti sei solo un ipocrita. Ecco perché, ripeto, puoi stare al top, ma chiedi parere ai tuoi utenti. Su che cosa? Sul tuo prodotto, sulla funzionalità, oppure su come loro lo usano, indipendentemente dal motivo per il quale è nato il tuo prodotto. E' proprio questo concetto che mi piace vedere nella coppia innamorato-carro. Perché? Perché nell'innamorato abbiamo il gruppo di persone. Possono benissimo essere degli utenti, mentre nel carro abbiamo il vincente, il vittorioso. Ma invece di puntare verso avanti, quindi verso, per avanti io intendo a destra, verso il futuro, perché punta verso dietro? Forse tiene in considerazione le opinioni delle altre persone? Eccoci qua. Quattro principi base del marketing associati a quattro coppie dei tarocchi che permettono di ricordarci l'una e l'altra materia. Mio grande consiglio, prossima volta che stai leggendo un libro che ti piace, vedendo un film che ti piace, e facendo qualsiasi cosa che ti piace. Cioè, non tutto però. Poi ovviamente non voglio rovinare situazioni particolari della tua vita, però prova a fare questa associazione con i tarocchi. Vedrai che nel giro di breve tempo è come se avessi letto miliardi di libri al riguardo.